Grazie. Grazie. le milioni regressate per questa gara che ha il programma ovviamente per motivi legati alla bagnata quindi dalla tranquillicità dell'elettricità non è veramente la possibilità di uscire di spingere, di tenere a fine gara intanto, spinta la conclusione di questa prima serie in consiglia 5 5 6 6 6 9 9 10 10 10 12 13 14 14 14 15 15 15 15